Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special oggi video un po' face to face dove appunto leggerò anche alcune vostre domande sul mercato della Juve che mi avete fatto ultimamente su alcune curiosità e voci di mercato in questo momento sta facendo le visite mediche chic quindi brevemente vi parlo del suo arrivo diciamo che è un buonissimo acquisto come sostituto perché lui è incisivo quando entra dalla panchina in una maniera pazzesca ha dimostrato la Sambedoria dove le prime partite le ha fatte tutte da sostituto e spesso segnava o comunque era decisivo in queste partite da subentrato mi piace come giocatore la Juventus lo sta pagando di più addirittura della clausola proprio per non far pesare questo acquisto in questo mercato infatti pagherà 30 milioni di razionati in tre anni è un affare che conviene un po' a tutte e due le squadre perché ovviamente la Sambedoria riceverà più soldi per quanto riguarda le vostre domande mi avete chiesto ad esempio su Danilo è un buon terzino ha dei difetti ragazzi infatti il Real lo ha messo cedibile proprio per questo però è un extracomunitario quindi la Juve proprio per questo sta temporeggiando in questa tentativa perché forse è più interessata a Douglas Costa anche lui extracomunitario quindi è difficile prendere entrambi se non parte qualcuno anche perché è già arrivato Bentancur tra l'altro questo Bentancur infatti ce l'ho un po' a vedere è arrivato un po' in sordina invece mi avete chiesto anche per Bernardeschi Bernardeschi ragazzi alla Juve piace è disposta anche a mettere una cifra molto cospicua si parla di 40 milioni anche se per 40 milioni io preferisco molto Douglas Costa un'altra domanda che mi avete fatto è appunto se prendere entrambi Bernardeschi e Douglas Costa beh dovrebbe partire però quadrato altrimenti questa cosa non è fattibile io sinceramente preferisco un po' quadrato perché ha anche un po' di esperienza internazionale Bernardeschi è forte conosce il campionato italiano ma non sappiamo come si comporta in campo internazionale e negli europei ancora non sta brillando moltissimo vedremo come si svilupperà questa trattativa poi un'altra cosa che mi avete chiesto è per il centrocampo beh si parla un po' di Matthew D per riparare il Saint Germain con qualche magari scampo appunto con quadrato diciamo che il centrocampo deve essere arrivato a Juve deve essere sia di sostanza e di qualità appunto come Matthew D se non si veramente 40 milioni tenetevelo per favore perché comunque è anche una grande età e noi non ce lo possiamo permettere a quella cifra quindi vedremo come finirà ben arrivato Schicke che tra l'altro era in Polonia quindi è dovuto venire appunto per fare le visite mediche gli hanno concesso quindi buon per lui forse appunto per sbrigare subito questa trattativa ditemi voi lasciatemi anche qui altre domande anche su altre squadre in modo tale che nei prossimi mercato nei prossimi appunto video sul mercato vi leggerò le vostre domande anche con il vostro nome magari se li ricordo ci vediamo con un prossimo video ciao